Brava, brava! Leva, Franci! Tre piedi! Leva il braccio! Sì, Franci! Vai, Franci! Vai, Franci! Mano sotto la gola! Allontanala! Sotto la gola! Brava! Sotto la gola! Così, Franci! Vai, Franci! Vai parla schiena! C'è esgrima già! Guardavo l'orologio! Vai, Franci! Vai, Franci! Vai, Franci! Sì! Sotto la gola! Sotto la gola! Sotto la gola! Sotto la gola! Così, brava! voglio appesare? no? no, c'è la gamba però... c'è la mezza guardia? c'è la bella dressa è norvegese questa, è un vikingo proprio, che dice Franci, fai qualcosa! Sotta la gola! 50 secondi dai Franci, prova a girarla! dai il tutto per tutto! 20 secondi! ancora, ancora! così, così, vado alla schiena! dai, 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 dai! No, 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 no.